Benvenuti a Radio Lime, siamo qua al liceo di Mendrisio in aula A6, sono le 16.30 e tutto va bene. Buongiorno a tutti da Via Agostino Maspoli, siamo a Radio Lime e vi stiamo per regalare un altro fantastico giovedì pomeriggio. L'uomo che sombra... che... Non capisco. È molto difficile arrivare a questo punto, bisogna quasi mettercela tutta. Mi allontano un po' perché mi spaventa. Lo trovo davvero preoccupante. Tralasciando i nostri veri fonetici. Stiamo parlando di una cosa seria. Dobbiamo smetterlo di parlare. Notevole, molto notevole. Non sono un po' preoccupato. Che ne pensate voi? Non ne ho idea. Vedremo dopo, dai. Siamo pronti per allietarvi con mezz'ora di Puga Radio. E non dimentichiamo neanche... Abbiamo un sacco di temi belli caldi di cui parlare. Poi cosa si può dire? Il peggio potrebbe ancora arrivare. Ma stai scherzando? Saremo sempre on air. Una rivoluzione in corso. Bello. Veramente molto bello. La nostra grandissima radio. Saremo 24 ore su 24 online. Evento fantastico. Sarà divertente. Figo. E oltre a questo ci sarà anche tanto altro. Sarà un anno molto fertile. Preparatevi. Dove, quando, a che ora, perché e con chi. Perché? Perché siamo figli. Quando il giovedì dalle 4 e mezza fino alle 5 saremo sempre noi a deliziarci con le nostre bellissime voci. Molto interessante. È veramente incredibile. Fantastici. Curiosissimi. Sono bellissimi. Quello che sarà, sarà per divertimento. Grande maffe. Un mito, un eroe. Poi chi lo sanno. Radio Lime. Apre le porte. Cerca di trasmettere. Questo è il nostro obiettivo come sempre. Non dimentichiamoci di... Mi raccomando, andate e schiacciate sul player giallo in alto a destra. Gli gialli di Mandrisio, fatelo subito. Ma al volo, al volo, al volo, al volo. E come probabilmente avete notato... Sto diventando dislessico. No, sinceramente non lo sapevo. Cominciamo con l'allegria. Era Host Dance dei Rocca Modia. Non so come si pronuncia. Ho capito. Qualcuno mi aiuti. Non so di che cosa tu stia parlando, ma va bene. Attenzione signore e signori. E adesso c'è Radio Lime a deliziarvi con le nostre magnifiche voci. Non bigiatela. Che figo. Vorrei ringraziare tantissimo... Tutti voi che ci ascoltate o questo per me è spettacolare. Cosa pensate della nostra radio? Nessuno se l'ha mai chiesto. Più o meno. Abbastanza particolare. Mi siete piaciuti tutti tantissimo. Davvero tanto, divertente. Troppo, 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 troppo... Correggetemi se sbaglio. La stagione è finita. Purtroppo noi dobbiamo andare. Grazie a tutti voi che ci avete accompagnati oltre la radio. Vi ringraziamo molto per averci ascoltati durante tutto questo anno e di averci sempre sostenuti. Siete stati meravigliosi. È anche da voi che nasce Radio Lime. Questa puntata è terminata! Saluto tutti gli ascoltatori. Ciao ascoltatori. L'appuntamento a giovedì prossimo. Vi salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. I nostri radioascoltatori. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo. Quindi vi ringraziamo di averci ascoltati. È stata un'esperienza bellissima di tutti quanti i liceali a provarla. È stato fantastico. Ci siamo divertiti tantissimo. Mi sono davvero emozionato e sentito coinvolto con una bella iniziativa. Una bella esperienza. E per chi volesse provare le stesse sensazioni che abbiamo provato noi, potete venirci a trovare. Noi siamo sempre disposti ad accogliervi a braccia aperte perché siamo carini e coccolosi. Perché sprecare un poverito senza ascoltarci ragazze e ragazzi ascoltatori di tutta l'età. Oggi siete qui con noi in questa nuova puntata di Radio Lime. 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 Radio Lime.